La grande famiglia di Epli Calabria si è riunita nella sede della Proloco di Marina di Gioiosa Ionica per adempiere ai doveri statutari e per scambiarsi gli auguri di buone feste. Nel corso dell'Assemblea, oltre alla programmazione 2024 che prevede attività in tutta la regione, tanti sono stati punti all'ordine del giorno, discussi e approvati. Piena soddisfazione da parte della Presidente di Epli Calabria che ha parlato di una giornata di condivisione e amicizia tra persone che amano il proprio territorio e che lavorano con un unico obiettivo in mente, la riscoperta dell'intera Calabria e la sua piena valorizzazione. Abbiamo un bel programma, bello, vario, con tantissime attività che riguardano l'anno futuro. Saranno interessate tutte le cinque province, come ogni anno l'Epli fa, con i raduni, con i pellegrinaggi e con le iniziative, tantissime le iniziative culturali, le iniziative sociali. Quindi l'Epli è un ente molto attivo, molto radicato sul territorio, oggi qua ci siamo più di 120 rappresentanti ed è veramente una cosa bellissima che in così poco tempo siamo riusciti a rivoluzionare il mondo delle proloco, il nuovo modo di fare proloco. Il nuovo modo vuol dire che non si fa solo in un settore dell'agroalimentare ma in tutti i settori, dalla cultura al sociale, principalmente sociale. Le proloco sono parti veramente, parti molto importanti per le nostre comunità. Laddove c'è una proloco la comunità è attiva, anche perché la proloco è ente terzo settore, il nostro ente è tutto ente terzo settore. Quindi la comunità si riattiva perché l'associazionismo è molto importante per i nostri territori. Siamo onorati di ospitare qui tutti i presidenti delle proloco provenienti da ogni provincia della Calabria. È un'assemblea molto importante perché è rivolta all'approvazione del bilancio preventivo, ma anche alla discussione di alcuni progetti, di alcuni programmi e concorsi che l'Eppli Calabria sta portando avanti ormai da diversi giorni. Abbiamo aderito come da obbligo statutario, ma anche come piacere personale a questa giornata di incontro fra tutte le proloco che fanno capo all'Eppli. Un ringraziamento per l'organizzazione ovviamente va alla presidente della proloco di Marina di Gioiosa e delle Sidoti. Un ringraziamento va alla presidente dell'Eppli regionale, la dottoressa Giuseppina Ierage. Oggi per noi è un momento di incontro oltre che un momento di crescita. Siamo qui tutti per lo stesso fine e con lo stesso scopo, ossia quello di promuovere e far crescere i nostri territori. Le proloco ovviamente in questo ambito svolgono una funzione particolarmente importante senza togliere nulla alle altre associazioni presenti sul territorio. Però il momento del passaggio a livello superiore ovviamente dipende sempre dalla capacità delle nostre proloco e dalla capacità di noi che ci siamo all'interno di agevolare questi momenti di crescita e di promozione. Oggi è un incontro, un'assemblea che ci tocca ogni fine anno per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2024. Con il direttivo penso che abbiamo fatto un bel lavoro, per cui oggi ci apprestiamo ad approvare questo bilancio in assemblea sperando di poter contribuire alla promozione del nostro territorio, del territorio taleblese come Eppli e Calabria.